ci sei sì sì ci sono ci sono sono pronto per partire siamo sì c'è un po di partite speriamo perché di solito non sono tanti di quelli bot sul gioco ma sì anche io ci sono tante persone forti tu dico ma io mi avevo io faccio sempre 45 killer non di più perché da poco che gioco però non sto imparando dai cos'è messo ok giusto già di aver sbagliato per allora che arriva in posto un po più sicuro tipo ancora iniziale non si sa da che ci siamo in che sei più alti tipi di vanno che cavoli ma ci gioco spesso ah tu vuoi scendere qui ok scendiamo qua dobbiamo farci subito lo scudo sì lo so siamo vicini sennò arrivando ancora in volo ok sono scesa testa testo c'è un arco qui eh ma no già sto prendendo munizioni e quindi anche le armi già che stai stessi facendomi anche lo scudo no ovviamente quello da 25 25 50 si si è gente da te no no più o no vedi che è un posto più sicuro qua ma tanto dobbiamo cercarli tanto o loro vengono da noi o noi andiamo da loro c'è un un'arma a occhi rossi non mi piace tanto quella ma ti piace più lo scarico a capire riesco a puntare su mitragliatrici e altri tipi di armi ok c'è anche qui il pompa se vuoi ottimo andiamo verso il tempo al centro si 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 te sta dietro te sta dietro tranquillo faccio sempre non mi stanno a sparare ah vado io vado io buono 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 buonissimo andiamo 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 vado io tanto questa si torna un po finirà e uscirà quella nuova il 10 marzo di marzo c'è ogni martedì che si aggiornano che si aggiornano prima uno con altro te ne passano due su cinque no due su cinque a terra ma c'è anche pure un bot insieme ma te devi sta attento no 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 sta arrivando sta arrivando tranquillo c'è anche un altro bot sta attento sta arrivando eh vabbè la prima è di riscaldamento e la seconda è quella fatta bene dai quella più giusta da giocare vabbè ovvio dai spegniamoci su aspetta scendere perché ti butti adesso? no eh sono già sceso un po' sono già sceso me li faccio io le uccisioni no e le levo a te dai se sei ancora in volo vediamo un po' qui e tu qua a terra bravo ottimo e aveva la corona e aveva pure la corona bella grande io lo ho qui no io non trovo ancora nessuno qui stanno sparando ma non capisco da dove stanno sparando capito preso preso a terra a terra morto il cappi pato 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 grande 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 l'arriva ho detto che la seconda era la partita la pisteria si la prima era da riscaldamento dai ah si ottimo buonissimo 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 occhio con il martello lì stai attento con un martello lì che potrebbe far danno ma no ma tranquillo lo so usato dai siamo quattro uccisioni io e cinque di eliminare dai andiamo avanti dai 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 questa è una bella partita me la vedo bella 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 me la vedo dai già una bella vittoria reale ma che cacchio sta usando che cacchio è una bella che cacchio è una bella che cacchio che cacchio ottimo 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 bella 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 avevano la mappa avevano che babbi si eccomi dai ma quanta gente c'è no è stata una cosa di di te di te ci stavano qua ma c'è già troppo gente e andamocene infatti veni da me intanto non so non ti vedo dove stai ma stai là no dammi la terra pannaggia era giusta F2 è finita così dai non fai niente è pronto ci sentiamo alla prossima io ti ringrazio e buona serata anche a lei bella grazie di aver giocato con te ok ciao bro ciao 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 ed è così che va a finire quindi ci vediamo la prossima